Una fonte vicina alla coppia ha detto che, Ferri e Meghan, pensano che il 2024, sarà l'anno della redenzione? Si dice che il duca e la duchessa di Sussex, siano molto richiesti poiché sperano in un anno di redenzione, secondo fonti vicine alla coppia. Il ritorno alla recitazione di Meghan Markle, è stato messo in discussione questa settimana dopo aver fatto un cameo in una pubblicità per una marca di caffè, lasciando alcuni dubbi se si trattasse di un tentativo di approfondire il mondo dello spettacolo. Ma una fonte ha detto a US Weekly che Meghan e il marito, il principe Ferri, erano estremamente richiesti, poiché ricevono numerose offerte per vari impegni di conferenze, nonché collaborazioni commerciali e di intrattenimento. Meghan ha stuzzicato la possibilità di tornare nell'industria televisiva dopo essere apparsa al gala Power of Women insieme ad attori di Hollywood a Los Angeles il mese scorso. Mentre camminava sul tappeto rosso, la duchessa ha detto che lei e il principe Ferri, 39 anni, hanno così tante cose interessanti in programma. Non vedo l'ora di poterli annunciare, ma sono davvero orgogliosa di ciò che stiamo creando. Anche mio marito lo adora. Il che è davvero divertente, ha aggiunto. Ha aggiunto che era entusiasta di tornare nel settore dell'intrattenimento. Prima di unirsi alla famiglia reale, Meghan ha recitato nel popolare dramma legale statunitense Suits, serie che ha acquisito maggiore importanza, essendo stata aggiunta a Netflix negli ultimi mesi. La coppia ha dovuto affrontare una serie di battute d'arresto nella carriera quest'anno, con il fallimento del loro accordo con Spotify e il libro di memoria di Harry, Spare, che ha causato reazioni negative dopo aver fatto una serie di affermazioni contro i membri della sua famiglia.